Questa è Bolo, è la mia città, sono il capo, l'inventore del Bolo Slang e tutta la gente di Bolo lo sai, sono i miei fratelli, i miei compagni e come me sono capi anche loro. Vi dico una cosa, per parlare a una persona che c'è da tanto bisogna aver fatto quello che ha fatto, ci sono i generali, non è una guerra, ma c'è la gente che c'è da più tempo e non è che tutti possano andargli a parlare con lo stesso tono, bisogna avere rispetto. Comunque, avevo questa cosa da dire. Le parole sono da tirchi, i fatti contano, le cazzate girano i soldi, parlano, senti come rappano, sono un valore aggiunto, fanno rime ogni volta che li conto, pure alla radio, in tv e sui giornali è un passaggio dopo un altro, mano dopo mano, con diverso coloro volto, ed è con loro che svolto, senza loro sei morto, non cresce l'erba nell'orto perché non c'è soldo per il seme, la fame è tanta ma la famiglia è santa, anche se povera, è per loro che continuo a comporre quest'opera, è per tutta l'altra gente che come me per sempre in pozzana fino a dopo la morte, capisci quel che dico fino a dopo la morte, nessuno ci compreva, la mia persona non è in vendita, il mio cd lo è, arrivo con merda che ne sa, non ce n'è, delirius è l'FC, piele click il set che spacca più sul break, garante te lo ha detto, non è un crack, ma piega sulle basi, chi l'FC ammazza con le frasi, assassino lirico, il pop lirico, fanatico, conirica violenta che fa male, illegale, nel senso che non ci puoi slegare o far male, zero pares me, questa è lirica è la line spec, e io sono il PL, ok, bravo, fanculo le major, fanculo i media, fanculo i giornali, fanculo la gente che fa rap e non fa hip hop, fanculo chi cazzo va lì e prende il beat di Eminem, la lirica di Eminem e il mio slang e si fa il successo del momento e si fa, e si fa pompare dalla major, ripeto, fanculo le major, fanculo i magazine che panano di sta gente qua, a me non me ne fotto un cazzo se io ho i scazzi con qualcuno o no, io ho i scazzi con tutti, mi stanno sul cazzo tutti. Se non c'è memoria storica, se non si ricorda quello che ha fatto una persona, muore tutto, perché dopo vado a inventare una cosa e me la fotono, nessuno si ricorda di quello, quindi ricordatevi che cazzo ho fatto, ci sono da un pacco di tempo, ne parlate tutti come me, dite uomo, vecchio, bella, mi imposto, fiato, sono tutte le parole mie del uomo qui, galante, quindi portate rispetto e ditelo, quando dite una frase che viene, dite come ha detto Yaren, come ha detto galante, come in America dicono, how long can you go like Chuck Tisset, I feel good like James Brown, così è l'hipop, perché non dai il credito, se non dai il credito è finita lì, è morta lì, e poi la gente che fa musica da parte ci vuole, però non deve essere commerciale, deve essere commerciale, se uno si dite uno che copia, andatevi sopra, diteglielo, 610, 610 non sai niente perché non stai evolvendo la storia a un altro livello superiore, e poi vi dico una cosa, la gente che c'è da tanto, che ha studiato, non è un caso che fa le cose meglio, tutti possono fare l'hipop, dice che le sue anze sono abilitati a farlo, io non sono superman, però ho studiato per farlo, se non lo vado a studiare non mi alleno, non capisco com'è la cosa e non porto l'originalità della cosa, non porto la cosa allo step che c'è dopo, non sto portando niente, non sto facendo hip hop, hip è il movimento dell'intelletto, hop è quello del corpo.